Se io vi dicessi 230.000 ore, sapreste dirmi a che cosa questo numero si riferisca? Lo andremo a scoprire nel video di oggi, ovvero il nostro Pausa Caffè, la serie di video incentrata sulla crescita personale con brevi video che spiegano alcune tematiche. Oggi sono qui proprio per parlarvi di queste 230.000 ore, che non sono altro che la media di un qualcosa. Prima di andare a vedere la risposta a questo quesito, vi esorto a lasciare ovviamente un like a questo video e un'iscrizione qualora non l'abbiate ancora fatto. Oggi per l'appunto tratteremo questa tematica qui, in questo nuovo episodio del Pausa Caffè, che ci accompagnerà durante tutta l'estate. È una tipologia di video che riservo solitamente al periodo estivo, in cui magari video un pochino più brevi possono piacere lo stesso, nonostante il periodo estivo non si dedichi troppo alla crescita personale. Ma poi anche questa è una tematica che affronteremo in un episodio del Pausa Caffè. Ora andiamo a vedere a che cosa corrispondono queste 230.000 ore e in realtà andiamo a sdoganare un concetto molto importante. Prima di farlo mi presento, io sono Christian, sono un Life and Productivity Coach, ovvero aiuto le persone a migliorare dal punto di vista della produttività personale e della crescita personale. E ogni volta che io inizio un nuovo percorso, tutti si immaginano che esso sia tipo motivazione al mille per mille, fai questo e otterrai risultati in un giorno, fai quest'altro e diventerai la migliore versione di te stesso o te stessa in 5 minuti. Bene, i miei percorsi non sono affatto così, sono percorsi difficili e tutti partono da un qualcosa. Quando infatti andiamo a gestire il tempo, o meglio gestire le attività del cliente, perché noi non gestiamo il tempo ma le attività nell'arco di 24 ore o nell'arco di una settimana in linea di massima, faccio iniziare il cliente da una tipologia di orario, più precisamente più o meno quello che poi nell'arco di tutta una vita corrisponde a queste 230.000 ore, ovvero le ore di sonno. 230.000 sono infatti le ore che noi dedichiamo al dormire durante la nostra vita, in media. Ora, chi più chi meno, insomma, quello lì è poi soggettivo, ma comunque sono le ore di sonno. E oggi perché parliamo di ore di sonno? Parliamo di riposo. Perché quando iniziamo, per esempio, un percorso di produttività, ma anche tutti gli appassionati di produttività personale, hanno questa cosa del devo fare di più, devo fare di più, ottenere più risultati in meno tempo. E tralasciano abitudini importanti come magari il sonno, magari il relax, tralasciano nel senso che pensano che siano ore tolte alla produttività. Che da una parte è vero, ma io faccio sempre l'esempio del muscolo. Se ci si allena in palestra, il muscolo non è che cresce nel momento esatto in cui lo alleniamo, il muscolo cresce nel momento in cui è a riposo. Quindi il riposo è un qualcosa di fondamentale. Vale per la palestra, ma vale anche per la vita di tutti i giorni. Quindi io che cosa augurisco sempre di fare? Di non arrivare a quel punto critico che è il burnout. Cioè un momento in cui non si ha più intenzione di far nulla, che può sfociare in un qualcosa di potente e anche devastante, come può essere la depressione o l'inizio di un qualcosa di analogo. Quindi si va in una direzione poi molto difficile da cui tornare indietro. A me il burnout è successo, non lo consiglierai a nessuno, ma nel mio caso per esempio ha aiutato a capire di non voler più arrivare a quel punto lì. E capendo questo, perché ero un super fissato della produttività, ma in maniera negativa, in maniera deleteria, non che fosse un qualcosa che mi aiutava ad essere effettivamente più produttivo. Perché sì, per una settimana lo sono stato super 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 produttivo. Poi però sono andato in burnout e per mesi non sono più riuscito a dedicarmi ad alcune attività. Questa storia poi del burnout in realtà l'ho già raccontata in diversi video, è successo mentre ero in quarantena, quindi era magari un periodo molto differente. Però si rischia comunque che si vada in quella direzione lì, se non ci si dedica correttamente al riposo. Il riposo è fondamentale per chi è un grande appassionato di crescita, di produttività, è difficile starsene, o di business, è difficile starsene fermi, è difficile dire ok ora mi fermo un attimo, ma anche chi comunque nutre una grande passione verso qualcosa. Eppure noi dobbiamo sapere quando fermarci e capire che è meglio fermarci da soli che un qualcosa di esterno ci fermi. Può essere il burnout, può essere il voler fare troppo, può essere un impedimento proprio fisico, dobbiamo capire quando sia il momento giusto di fermarci. Perché in cuor nostro noi sappiamo se stiamo tirando un po' troppo la corda. E non ha senso, cioè io non sono uno di quei coach che dice non dobbiamo assolutamente fare di più. Se vedo che c'è del potenziale inespresso, allora in quel caso sì, ovviamente. Cioè se io mi rendo conto che il cliente sia col freno a mano tirato, prima di arrivare a un punto di non ritorno, io dico, qui dobbiamo andare ad aumentare un pochino ovviamente, perché altrimenti stai sprecando solo soldi e tempo. Ma nel momento in cui vedo che il cliente sta andando alla grande, che proprio si percepisce che inizi ad essere stanco e saturo di quel qualcosa, faccio il possibile perché rallenti. E per esempio, quando vedo che si raggiunge, il mio percorso si chiama produttività ai massimi livelli. E quando vedo che il cliente raggiunge quel punto lì, allora faccio solitamente aggiungere un po' in più di ore di riposo, perché non ha senso poi non godersi i risultati. Si rischia di diventare automi, macchine, e non è quello che noi dobbiamo ottenere, perché noi dobbiamo gioire del risultato che stiamo ottenendo o abbiamo ottenuto. Quindi quello di aumentare le nostre performance. Ma se non ce le possiamo godere perché magari stiamo male, perché magari siamo saturi mentalmente, perché stiamo per raggiungere un obiettivo e stiamo già pensando al successivo, beh, stiamo assolutamente sbagliando qualcosa. E quindi lo andiamo un pochino a correggere. E l'obiettivo è quello di avere una produttività sana, quindi una crescita comunque sì esponenziale, quindi che vada a far aumentare le capacità del cliente nel giro di diverse settimane, ma comunque sempre rimanendo sani. Perché se io vado a esagerare in una direzione, o se mi dedico troppo ad una sfera della vita, prendiamo il lavoro, ma tralascio completamente tutto il resto, nel breve termine può anche andare bene. E poi anche questo rimane sempre soggettivo, perché può avere comunque impatti sul lungo termine, ma è proprio sul lungo termine che va ad essere deleterio, quindi noi dobbiamo stare molto attenti a questo e considerare anche il riposo nel nostro percorso di crescita personale e di produttività personale, che è un qualcosa che purtroppo in tanti non fanno, anzi, soprattutto chi si avvicina alla crescita personale e se ne innamora, rischia di veramente voler fare troppo, che non significa molto spesso fare bene, anzi, il troppo stroppia, è come dice il proverbio, e sarà anche un cliché, ma effettivamente è così. Quindi non dobbiamo esagerare in una direzione, ma cercare di essere equilibrati il più possibile. A questo proposito vorrei creare un video, comunque un contenuto, sul life balance, quindi su come bilanciare bene magari il lavoro, la vita, perché comunque è un discorso molto molto importante. Avendo anche un pubblico parecchio giovane, dai dati che vedo di YouTube, noto che parlare di questi argomenti sia importante per, purtroppo non far cadere i vari giovani per l'appunto in magari percorsi di fuffaguru, o addirittura andare verso il burnout semplicemente perché purtroppo l'impronta che viene data la produttività, la crescita è lavora, 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 dormi di meno, lavora di più, fattura di più. Puoi anche lavorare e fatturare di più, ma come dice Mr. Rip, che tra l'altro è anche una persona ricchissima finanziariamente, è davvero così importante essere l'uomo più ricco del cimitero. Quindi a volte ci poniamo anche obiettivi che sono, e lo sappiamo, irraggiungibili, o comunque, poi anche sugli obiettivi dovremmo aprire un discorso a parte, ci poniamo e ci mettiamo in situazioni che non ci fanno bene, ma solo perché le abbiamo viste magari su un video di YouTube, o magari ci viene venduto quel qualcosa che poi non corrisponde per forza alla realtà. Quindi stiamo molto attenti a questo e dobbiamo sempre considerare il riposo per una produttività sana. Non ha senso lavorare, 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 e poi non avere nient'altro di cui gioire e magari neanche poi persone con cui condividere questi risultati, proprio perché si allontanano da noi. Quindi, mi raccomando, bisogna lavorare benissimo su se stessi, proprio lavoro inteso come sostentamento, per carità, ma dobbiamo anche stare molto molto attenti a ciò che ci circonda a partire dal riposo. Fatemi sapere che cosa ne pensiate qui sotto con un commento. Grazie. 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 Grazie.